E ora parliamo di sport, la pallavolo femminile A1, successo della Maicicero-Pesaro sul Legnano. Il servizio è di Pierpaolo Rivalta. La Maicicero strapazza Legnano e conferma l'ottimo momento. Partita veloce, un 3-0, con le Lombarde ferme a 15-13 in due dei parziali. Solo nel secondo set c'è battaglia, ma il colpo di Reni vale a Pesaro il 25-21 a proprio favore. Troppa differenza in campo, Maicicero ancora in crescita, sub-volle incerta e in evoluzione con cambi di panchine e di giocatrici. Già in avvio Legnano perde contatti in maniera pesante e cambi e time-out immediati non invertono la tendenza. Pesaro allarga così il suo margine in classifica contro una delle formazioni in retrovia. Oggi era una partita fondamentale per la salvezza, ancora non è matematica, però credo che i punti di vantaggio sono tanti e le giornate cominciano ad essere sempre meno e credo che oggi abbiamo messo un bel piede al nostro obiettivo iniziale. L'andamento della stagione, della prima parte di stagione e l'andamento di questa prima parte di giorni di ritorno sia un segnale che siamo vivi, che ci siamo e che meritiamo di stare in questo campionato e di giocarci anche magari qualcosa in più. Bocan 17 punti in gran serata, seguita da Vanecchio e Livotto pure in doppia cifra. Mercoledì trasferta a Modena contro la Liugio, sabato anticipo televisivo con la Pomi. Pesaro con un livello di gioco che ormai è una certezza e pronta a mirare anche più in alto.